professoressa monica bocchia che cos'è la leucemia mieloide acuta allora per parlare di leucemia mieloide acuta dobbiamo fare un piccolo passo indietro e capire come funziona il midollo osseo che è in pratica la fabbrica del sangue la fabbrica in cui vengono prodotti i globuli rossi globuli bianchi le piastrine che poi arrivano nel nostro sangue all'interno del midollo osseo esistono delle cellule che sono chiamate cellule staminali che sono relativamente poche ma sono come delle madri inesauribili che danno origine continuamente a figlie che si moltiplicano si differenziano acquisiscono delle capacità delle competenze e diventano in fondo i nostri globuli bianchi globuli rossi piastrine quando avviene una leucemia cosa succede che una cellula staminale si ammala può avere un danno genetico per esempio e produce figlie incapaci di differenziarsi incapaci di maturare è come se le figlie rimanessero dei neonati e questi neonati ovviamente non diventano globuli rossi piastrine globuli bianchi poco per volta noi perdiamo i globuli rossi globuli bianchi le piastrine perché non abbiamo una produzione e il nostro midollo osseo si riempie di questi neonati immaturi che vengono chiamati blasti non solo non avremo poi nel sangue le cellule mature ma addirittura i blasti una volta riempito tutto il midollo osseo passano nel sangue quindi la parola leucemia in realtà significa un eccesso di cellule nel sangue che non sono però globuli bianchi normali ma sono appunto questi blasti e si capisce da qui anche la sintomatologia del paziente con leucemia acuta mieloide in pratica l'anemia la riduzione dei globuli rossi porta anemia quindi stanchezza la riduzione dei globuli bianchi ci impedisce di superare le infezioni quindi possiamo avere infezioni anche molto importanti e la riduzione delle piastrine porta all'incapacità di coagulare il sangue quindi lividi emorragie e tutto questo purtroppo avviene abbastanza rapidamente nell'arco di un mese un mese e mezzo quindi una persona che stava magari bene fino a quel momento lì abbastanza rapidamente ha questi sintomi la stanchezza le infezioni le emorragie ecco ma professoressa ma quella cellula madre si rigenera da sola la cellula madre la cellula staminale è una cellula che si rigenera da sola è proprio una cellula capace di auto rigenerarsi ma anche di dare origine ai figli e questi figli tutti diversi appunto che portano a cellule diverse è una cellula fantastica è la cellula più importante forse che ne abbiamo nel nostro organismo perché proprio è in grado di quasi di essere perenne per intenderci ecco perché da sempre origine a una cellula uguale a se stessa oltre alle cellule figlie che diventeranno poi le cellula d'essere